Buonasera e ben trovati al nostro TG Sport. Ultimi allenamenti in casa Pistoiese in vista della sfida di domenica al Marcello Melani contro il Carpi. L'attaccante arancione Daniele Ferrandino ha parlato della partita ospite a Giovedì Sport. Domenica la Pistoiese per la quarta giornata del campionato di Serie D affronterà al Marcello Melani il Carpi. Si preannuncia una delle sfide più interessanti vista la caratura delle due compagini, due squadre che hanno la stessa ambizione, quella della promozione. Gli arancioni arrivano all'appuntamento con due vittorie consecutive alle spalle, ultimo successo quello nel derby contro la Ianese, mentre i biancorossi nell'ultimo turno hanno perso in casa contro il Fanfulla per entrambe sei punti in classifica. Conosciamo il Carpi, a parte la sconfitta di domenica, anzi forse è una sfortuna per noi perché verranno ancora più inferociti al Melani, quindi vedremo un po', loro sono una squadra forte che è caratterizzata dal bel gioco. Vedremo, il mister ci ha detto che sono partite che in settimana si possono preparare, però poi prima di scendere in campo le emozioni vengono da sole, ognuno di noi sa quello che deve dare, vedremo un po', penso sia una bella partita. Dopo Ravenna c'è scattato qualcosa in ognuno di noi, quindi sicuramente non sbaglieremo l'atteggiamento, daremo tutti il 100% e poi ovviamente sarà il campo a decidere la vincitrice. Passiamo a parlare di basket, andiamo in Serie B femminile, esordio in trasferta, sabato per la Nico Basket. La Nico Basket pontebugianese è pronta per l'esordio nel campionato di Serie B. L'ambizione è quella di fare una bella stagione ed esserne protagoniste. Sarà una stagione molto più difficile rispetto a quella dell'anno scorso, perché le squadre si sono rinforzate quasi tutte, quindi sarà anche più divertente il campionato. Noi l'anno scorso siamo arrivati noni, quest'anno speriamo di arrivare almeno nei play-off che sarebbero nelle prime otto posizioni. Dopo l'ottima preparazione le ragazze di Coccerastelli sono pronte per la prima partita, che le vedrà di scena sabato al Palace Cioni, ospiti della PL Livorno. Sarà una partita molto difficile perché giochiamo contro la PL Livorno, che l'anno scorso mi pare sia arrivata quarta o quinta. Sono molto brave, è una squadra molto veloce, che giocano da tanto tempo insieme, quindi non sarà per niente facile. Stanno tutte bene all'infuori che le due nuove arrivate, che sono Valentina e Agnese, che hanno un po' dei problemini che non credo che ce la faranno a giocare sabato, ma noi abbiamo le nostre ragazze, quelle più giovani, che ci daranno una mano sicuramente. Il debutto casalingo ci sarà sabato 7 ottobre al Palapertini contro il San Giovanni Valdarno. Ci saranno poi da affrontare Piombino, Lucca, Firenze, Prato, Siena, La Spezia e Pontedena. Come sorprese ci metterei senza dubbio Spezia, che però diciamo che è una conferma perché l'anno scorso è arrivata al finale, però quest'anno hanno fatto una politica molto diversa, che sono praticamente il gruppo che si allena con la 2 e le giovani faranno la Serie B. E poi per me la sorpresa sarà Siena perché è un buon allenatore, si è visto l'anno scorso, che quando è entrato lui hanno cambiato marcia e sono arrivati a fare le Final Four. Andiamo in Serie C di basket, al via la stagione per l'Endi Asfalti a Iana, domenica alle ore 18 alla Palapertini. La squadra di coach Giulio Gambassi ospiterà la Juve Ponte d'Era, una squadra giovane completamente rinnovata. Sarà fondamentale l'approccio alla gara da parte nostra, cercare di strappare fin da subito senza mai calare di attenzione. Lungo i quattro quarti, ci stiamo preparando bene, siamo pronti e carichi per l'esordio davanti al nostro pubblico. Non vogliamo deludere i nostri tifosi e spero che da parte loro ci sarà sempre e comunque il massimo sostegno, così ha parlato Gambassi. E continuiamo a parlare di basket, parliamo però di settori giovanili e andiamo a conoscere il nuovo settore giovanile dell'Estra Pistoia. Con il ritorno dell'Estra Pistoia in Serie A cambiano le regole, cambiano anche le aspettative del settore giovanile con il ritorno della Next Gen? La Next Gen è un'ulteriore pratica che i nostri ragazzi dovranno affrontare quest'anno, che coinvolgerà tutte le squadre giovanili Under 19, affiliate alle società di Serie A1, all'interno della quale poi uscirà una squadra vincente, come è normale che sia, ed è un'esperienza ulteriore perché comunque ci permette di affrontare già squadre che sono strutturate in un certo contesto, che hanno una certa esperienza di settore giovanile legata a società di Serie A1 e quindi molto molto formativa. Quali saranno le squadre che faranno parte del settore giovanile del Pistoia Basket? Come tutti gli anni, tre squadre eccellenza, Under 19, Under 17 e Under 15. Quest'anno abbiamo l'Under 19 che parteciperà al campionato Gold rispetto a quella dell'anno scorso che era l'Under 17 e poi le classiche 15, 14 e 13 che faranno anche campionati regionali, provinciali all'inizio. Poi c'è tutto il settore mini basket che consta di 5 squadre e il settore femminile che avrà alla nasa di partenza tre squadre nella categoria 14, 15 e 19. E oltre al mini basket anche la volontà di avvicinare i giovanissimi, quindi si parla di bambini da 3 a 5 anni all'attività ludico-motoria per cercare di distorgli il più possibile da cellulari. Esatto, non solo da cellulari. Diciamo che abbiamo pensato a questa iniziativa da offrire al tessuto pistoiese, alle famiglie pistoiesi, dove i ragazzi non faranno niente che è attinente alla pallacanestro ma faranno tutta un'attività volta al divertimento, volta ad imparare ad usare il corpo, volta a cercare di usare il corpo in contesti particolari e tutto questo sarà affidato alle sapienti mani di Virginia, Becciani, per cercare di portare i ragazzi a socializzare sempre più fra loro in età molto più adolescenziale. Quindi bambini dalle tribune del Palacarrara, al campo del Palacarrara, come fare? Il riferimento è Virginia Becciani, così come per il mini basket ci sono Mario Breschi e Annalisa Breschi che sapranno dare tutte le indicazioni del caso. Sui nostri social Instagram e Facebook, così come sul sito del Pistoia Basket 2000, troverete le indicazioni. E prende il via anche il campionato di calcio a 5, serie a 2, elite. Il futsal Pistoia debuterà in casa al Palacarrara sabato alle ore 16, la sfida contro lo Sporting Altamarca. Ed è tutto, il Tg Sport termina qua, voi però restate con noi per tutti gli altri ulteriori aggiornamenti e una buona serata.